I 10 peccati capitali del marketing di Philip Kotler questo è un libro molto molto carino per chi ha già un'azienda tutto sommato strutturata a mio avviso è un pochino troppo avanzato come contenuti per una PMI classica italiana quindi diciamo un libro professionista, un artigiano, assolutamente sono cose completamente fuori scala chi ha già un'azienda tutto sommato strutturata, almeno un minimo, non parliamo di aziende enormi però chi ha già magari 10-20 dipendenti allora trova sicuramente contenuti interessanti c'è però un capitolo che mi ha colpito che credo possa, anzi sono sicuro che possa aiutare chiunque dall'artigiano al libro professionista all'imprenditore più o meno grosso e ho intenzione di parlartene oggi in questa pillola ed è il capitolo 7 nel quale vengono presentati 3 problemi, te li leggo l'impresa ha troppi prodotti e molti non sono redditizi, cosa che colpisce tantissime aziende secondo l'impresa propone gratuitamente troppi servizi, questo per fortuna un pochino meno, almeno per la PMI l'impresa non è sufficientemente efficace nella vendita incrociata, cross-selling di prodotti e di servizi e ti leggo un piccolo paragrafo di ognuno di questi tre punti il primo è troppi prodotti e non molto redditizi le grandi imprese si sono reso conto che una parte consistente dei loro profitti viene generata da una ridotta percentuale di prodotti quindi diciamo la solita regola dell'80-20 di Pareto che ci seguirà per tutta la vita e il problema di tantissime aziende che hanno in catalogo tantissimi prodotti molti dei quali sono effettivamente una perdita di tempo perché hanno pochissimo margine ne vendono pochi e quando li vendono diventa anche un problema poi erogarli quindi assolutamente un errore molto grosso il secondo errore è troppo poco cross-selling di questo hanno parlato tantissimo nelle pillole le imprese che vendono una gamma di prodotti e di servizi spesso non sono in grado di promuovere altri articoli oltre a quello specificatamente richiesto dal cliente anche qui il problema è lo stesso nel senso che le persone vanno, chiedono un prodotto e le aziende che potrebbero suggerire al cliente un prodotto parallelo, correlato un qualcosa che effettivamente potrebbe migliorare l'esperienza del cliente o comunque l'utilizzo del prodotto o servizio che hanno acquistato non viene proposto o addirittura manca e questo è un problema perché è una semplice azione che se applicata, se è messa in pratica può incrementare immediatamente il fatturato che fate da oggi a fine mese quindi importantissimo il terzo punto è troppi servizi concessi gratuitamente e questi nel libro vengono individuati nella parte di vendita nel senso che il venditore pur di chiudere appunto il contratto magari offre installazione gratuita, consegne gratuita e una serie di servizi accessori gratuiti che però per l'azienda hanno un costo vengono sottovalutati dal cliente perché venendo regalati così vengono sminuiti e quindi diventa veramente un buco che si genera nei conti dell'azienda quindi è un problema il libro poi ha altre tre paragrafi che rispondono appunto alle tre domande quindi con le cure ad esempio mi ero sottolineato quando ho lesso in questo libro la parte riguardante cross-selling, up-selling e c'è scritto in un negozio il commesso stipendio fisso, probabilmente minimo che vende una camicia a un cliente non può essere motivato a proporre altri articoli senza un adeguato incentivo economico il cliente ha chiesto solo una camicia allora perché fare uno sforzo in più? e questo purtroppo per chi ha dipendenti sa che è un problema che si trova ad affrontare sempre perché si vorrebbe fare sempre meglio e non è sempre facile riuscire a trovare le persone giuste che ci mettono la stessa passione, lo stesso impegno che ci mettiamo noi nel nostro lavoro quindi bisognerebbe creare poi tutta una serie di procedure ed eventualmente in questo caso anche incentivi per migliorare ovviamente tutti i nostri servizi come dicevo poi gli altri nove peccati capitali riguardano l'azienda un pochino più strutturata è vero ce ne sono alcune che si possono bene o male applicare anche ad aziende più piccoline e quindi sì, è assolutamente una lettura che consiglio altrimenti non l'avrei recensito ovviamente però ripeto come lo stesso libro di cui parlavo ieri non è una lettura con cui inizierei se mi devo approcciare nel mondo del marketing e del business quindi inizierei da altri libri e questo lo lascerei come una lettura secondaria dopo che ho appreso altre basi quindi i 10 peccati capitali del marketing libro assolutamente consigliato se avete un'azienda già un minimo strutturata se siete invece piccoli 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 siete all'inizio non ve lo consiglio come libro introduttivo perché è davvero sprecato molte cose non vi entrerebbero in testa perché al momento non sono applicabili e poi ve le dimentichereste dovreste riprenderlo poi quando la vostra azienda sta crescendo e raggiunto di numeri più importanti con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ti saluto ciao aggiungo anche questo libro è stato tradotto da Alessio Beltrami quindi che ringrazio perché ci ha portato alcuni libri veramente veramente delle piccole perle che non sarebbero mai arrivati in Italia i Nozari Sin City un paio durante quest'ultima carrellata che ho fatto e un altro in passato quindi assolutamente consigliati poi ci tengo a ricordarti come al solito di iscriverti alle mie pillole via mail puoi farlo dal sito pilloledibusiness.com e tutte le mattine alle 7 riceverai una mail che si legge in 2-3 minuti riguardante marketing, business e crescita personale ci si iscrive con un click e gratis se non ti piace ti cancelli con un click per cui corri ad iscriverti con questo è tutto davvero io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao